Uuuuuh Uuuuuh Yeeeaaah Ciao a tutti Noi siamo i Fisoff Siamo un gruppo emergenti di Orbassano Suoneremo il ****** in piazza al Sonic Live E niente, siamo appena usciti da studio registrazione e abbiamo finito di registrare il nostro EP che è di tre brani che è stato un premio della vittoria del concorso di ritmica Moncalieri. Abbiamo inscritti questo concorso all'inizio settembre vedendo su internet l'annuncio e ci interessava il premio e in questi giorni stiamo concludendo la registrazione e speriamo di averlo prima di fine estate Quindi inizio luglio Speriamo di vedervi tutti voi il 5 luglio in piazza Corbassano e proprio a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti